ciao in questo video di oggi vediamo come è utile la conoscenza armonica per improvvisare quindi per il fatto melodico per la chitarra solista quindi se ci fai caso prima di continuare se sei nuovo iscriviti al canale cliccando sulla campanellina e ricevi sempre le notifiche quando carico video nuovi abbiamo visto che la scala di do avevamo costruito degli accordi su ogni grado della scala ogni suono quindi costruiamo prima i ricordi poi accordi a tre suoni quindi ottenendo accordi maggiori sul primo e sul quarto e sul quinto e accordi minori sul secondo e sul sesto quindi viene un accordo diminuito sul settimo questo è quello che ti serve nei giri di accordi fondamentalmente nell'improvisazione melodica possiamo suonare questi accordi melodicamente ci sono decine e decine di esercizi da fare da usare nell'improvvisazione sui giri di accordi poi vanno applicate qui queste triadi le suoniamo in vari punti di manico no? do mi sol re do re mi fa sol la si do però do maggiore re minore do maggiore re minore mi minore fa maggiore sol la minore giusto? do mi sol i do i du mi fa maggiore re minore u mi fa maggiore re minore che dà di do quindi vedi come è collegata l'armonia e l'improvvisazione l'armonia e la melodia perché le stesse cose armoniche suonate armonicamente le possiamo utilizzare melodicamente perciò batto sul fatto dell'armonia per poter suonare il solismo quindi quando tu improvvisi per esempio su un accordo minore sarebbe solo accordo di do tutte queste triadi possiamo suonarle melodicamente ho fatto delle cose casuali però per farti vedere come come sono applicabili immediatamente se provi a farlo in non dico 12 tonalità ma tre quattro cinque tonalità quindi questo lavoro qua lo fa in sol questo lavoro lo fa in sol maggiore in re maggiore ottieni vedi in re ma io l'ho suonato didatticamente ma ci vuoi fare musica improvvisare in la maggiore sembra quasi musica classica perché vedi come sono melodiche semplicemente quegli accordi costruiti sulla scala maggiore suonati a singole note quindi se li conosciamo armonicamente li conosciamo melodicamente e li applichiamo sui giri di accordi conseguenzialmente io ti ringrazio per essere stato con me ti invito a iscriverti a giambirobru.it così puoi scaricare lezioni esclusive ricevere maggiori informazioni maggiori nozioni ti metto sotto il video nella descrizione giù se sei su facebook in alto altre lezioni di corso solista queste lezioni che faccio su youtube sono inedite non fanno parte di corsi però tratto argomento insomma corso solista nella descrizione ti inserisco corso blues e noi ci sentiamo al prossimo video un saluto da giambiro ciao 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 ciao